Elezioni politiche del 25 settembre è raggiunto l'accordo tra il PD di Enrico Letta con azione di Carlo Calenda più Europa di Benedetto della Vedova. I tre leader si sono ritrovati a Montecitorio per siglare il patto elettorale, riconoscendosi nel metodo e nell'azione del governo Draghi e che li vedrà correre assieme contro il centrodestra. Stabilite le quote anche dei collegi uninominali, al PD andranno il 70% dei posti disponibili, il 30% ad azione e più Europa, scomputati dal totale i collegi che verranno attribuiti successivamente alle altre liste che aderiranno all'alleanza.